Sono Luigi Gaetani, medico di medicina generale, on-con, presso servizio da più di trent'anni nella nostra comunità, mi candido nella lista insieme per subiago con Francesco Velliccia sindaco. Anche questa volta avrei potuto starvene tranquillo, osservarne e perché no criticare, ed invece ho deciso di fare qualcosa, di impegnarmi in questo percorso, di provare a decidere nelle decisioni che riguardano tutti. Occorre migliorare i contesti in cui viviamo e prenderci cura dei bisogni comuni. Vi aspetto nella nostra sede per condividere la nostra scelta.